Siamo sull'oro del Baratro o il conflitto in Medio Oriente è un conflitto regionale, devastante nella sua potenzialità, ma rimane comunque circoscritto a quell'area? Premesso che non sono un conoscitore, sono solo un osservatore quotidiano di quello che succede, delle informazioni, dunque mi baso su queste. Il Medio Oriente è già un caos bellico da parecchio tempo. La Siria, il Libano, l'Iraq, però questa faccenda con l'Iran, secondo me, resta un conflitto regionale. E mi sembra che chi abbia meno interesse a farlo diventare un vero conflitto tra Iran e Israele sia proprio l'Iran. Perché sanno che comunque hanno un'opposizione interna molto forte, una posizione popolare messa a tacere, penalizzata, censurata, arrestata, ma molto forte. E sempre nel corso di un conflitto il potere che sta gestendo il conflitto perde consenso e minaccia di collassare, specialmente i poteri autocrati. Cioè ci sei...